oroscopo di mercoledì 10 giugno ariete belle soddisfazioni in amore e nel campo delle amicizie ci sono possibilità di essere sommersi dalle coccole e stimati come avete sempre sognato una straordinaria fantasia una grande vitalità sono gli ingredienti perfetti di oggi toro in questo mercoledì amici del toro riuscirete a pianificare in modo eccellente impegni che riguardano casa lavoro e famiglia qualche sospetto i momenti di scarsa socievolezza non devono alterare il buon andamento di questo mercoledì trovate il modo di scacciare quelle sterili malinconie gemelli ottime intese per chi è in coppia da tempo giornata adatta ad allargare gli orizzonti esistenziali avete una dose massiccia di tenacia per vivere ogni momento con maggiore enfasi aspettate che amici o conoscenti vi offrano l'occasione per cimentarvi in un progetto cancro buoni interessi alimentano gli entusiasmi e danno lo stimolo per realizzare alcuni progetti in tutti gli ambienti vi muoverete con maggiore disinvoltura e sicurezza sotto ottime auspici le attività legate al mondo della cultura riflessioni profonde sull'amicizia aiutano a valorizzare un rapporto che sembrava di poco valore leone in questo mercoledì è necessario imparare a godere del piacere delle piccole cose magari sottraendo un po di energia alle battaglie quotidiane e rilassandovi osservando chi vi circonda lasciate entrare le sensazioni più belle e i pensieri più dolci vergine la necessità di esercizio fisico di spazi più liberi in cui esprimervi a un effetto stimolante sul temperamento fareste bene a pensare di fare una breve vacanza all'insegna del benessere se proprio non vi è possibile partire potreste avviare un programma di fitness intelligente capace di rigenerare l'equilibrio psicofisico bilancia gli eccellenti influssi di questa giornata rendono protagonista l'amore e promuovono gioie affettive molto probabilmente avrete voglia di starvene con la persona che amate in campo professionale avete il coraggio di mettervi in gioco con proposte di lavoro diverse da quella che avete svolto finora scorpione se siete in coppia scelte e atteggiamenti troppo indipendenti possono infastidire il partner mentre per chi è single si fanno strada alcune possibilità di incontri scambi creativi nell'ambiente laborativo un consiglio in serata una buona tisana e a letto presto domani vi attende una giornata tutta sprint sagittario la felicità porta fortuna l'amore che nasce sotto queste stelle a tutte le prerogative per continuare ad essere fonte di gioia per molto tempo oggi farete incontri fortunati ed esperienze sentimentali sapete infatti usare bene il vostro fascino e nel lavoro quando vi impegnate seriamente sapete sempre raggiungere gli obiettivi capricorno necessità di innovazioni e super lavoro rendono questa giornata frenetica ma molto produttiva se dovete prendere decisioni importanti fate pure perché la calma interiore vi consente maggiore valutazione delle convenienze eventuali difficoltà nella gestione del patrimonio familiare si risolvono con l'intervento di un mediatore acquario la giornata è tutta da dedicare all'amore la vita 2 è particolarmente ricca di momenti audaci e il rapporto con il partner è piacevole al punto che potreste optare per una serata sopra le righe i nati tra il 6 e il 10 febbraio potrebbero sentirsi un po tristi analizzate bene la situazione pesci mettete ordine nel vostro intimo senza aggrapparvi all'apparenza schiacciate quindi quei sensi di colpa che vi tengono imprigionati in una storia con una persona che non vi merita in alcuni casi è saggio chiudere definitivamente continuare a credere in se stessi è il modo migliore per affrontare la vita e i cambiamenti imposti dal destino grazie a tutti